L'anima per una donna che mi ha cambiato la vita, però anche la mia vicepresidente mi ha cambiato la vita e li voglio bene anche lei, a modo mio, a modo tuo, in rapporto a ciò che mi ha. Contracambiamo simpatia per simpatia. Bravo Ferruccio, bravo Ferruccio. E siamo tutti contenti e tranquilli. Salutiamo tutti, adesso spegni perché sennò diventiamo pesante. Io già spendo prima. No, gli spiego, perché ogni tanto ti spegni e devi accendere. Arrivederci. Arrivederla. Sempre il piacere di prendere. La devo da mano. Ciao carissimo, sei sempre un amico.